Ariete ha tradito la ex fidanzata Jenny Denucci? Le parole dell'attrice nascondono un certo risentimento. Scopriamo cosa è successo. Perché la cantante Ariete e la fidanzata Jenny Denucci si sono lasciate? Potrebbe esserci di mezzo un tradimento. Scopriamo cosa ha dichiarato l'attrice ed ex star del collegio. Leggi anche, Ariete cantante, vero nome, età, quando è nata, fidanzata Jenny Denucci, coming out, canzoni, album, X Factor, dove vive, Instagram Ariete e Jenny Denucci si sono lasciate la cantante e l'attrice facevano coppia da poco più di un anno, dopo essersi conosciute sul set di un videoclip di Ariete, ma perché si sono lasciate? Ecco cosa ha dichiarato in merito Jenny Denucci, da parte della cantante, invece, non è arrivata ancora nessuna dichiarazione. La rottura delle due giovani artiste ha lasciato senza parole moltissimi fan. La coppia, infatti, si è sempre mostrata molto affiatata. Ma dal web potrebbe arrivare la verità sulla causa della separazione. Scopriamola insieme. Ariete e Jenny perché si sono lasciate? Foto nonostante non ci siano dichiarazioni ufficiali in merito alle motivazioni che hanno spinto le due ragazze a lasciarsi, un video su TikTok di Jenny Denucci, pubblicato qualche giorno prima dell'ufficializzazione delle rottura, apre diversi possibili scenari. Ecco le sue parole, pare probabile credere che Jenny si stia riferendo proprio alla ex fidanzata Ariete. Cosa sarà successo? Perché, secondo voi, Ariete e la fidanzata Jenny Denucci si sono lasciate? Potrebbe trattarsi di un tradimento da parte della cantante? Non ci resta che aspettare delle nuove dichiarazioni e la replica di Ariete. Restate aggiornati con per scoprire tutte le news in merito. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.